freelance camp è smettere di lamentarsi e cominciare a cambiare una meravigliosa idea e soprattutto bellissime relazioni per essere sempre più free ma sempre più in rete una specie di capodanno dei freelance direi che a questo punto teniamo anche qua il microfono e chiamerei barbara pedersini e facciamo una cosa collaborativa sulla gestione del tempo degli spa ask me anything sì allora ciao mi chiamo barbara e ho smesso ho smesso in realtà lavoro come freelance in agenzia come strategist e nel tempo libero per divertirmi organizzo complessi servizi fotografici con dei clienti americani queste sono le credenziali con cui mi presento sempre al freelance camp a dare consigli di organizzazione del tempo dello spazio eccetera con qualche variante in realtà c'è gente anche più titolata di me ovviamente ma io ho una discreta esperienza e discrete competenze e un punto di vista un po particolare allora l'idea era questa dirvi tre quattro cose basi basi che sono che vi danno l'idea di se mi chiedete un consiglio io vi rispondo da questo punto di vista ok perché l'assunto su cui opero è che vale tutto non esiste una religione in questo campo come neanche negli altri secondo me quindi io mi sono scritta queste cose prima di tutto prima di cominciare a decidere cosa fare per organizzarsi il consiglio che io do sempre a tutti anche quando non è richiesto è guardarsi dentro prima di guardare fuori perché il rischio molto spesso è quello di vedere qualcuno che ci sembra che stia facendo meglio di noi in modo più organizzato con degli strumenti migliori e ambire a emulare quell'esempio e quindi di conseguenza muoversi a chiedere consigli per me è una ricetta per il disastro perché nessuno di noi uguale abbiamo tutti delle specificità che richiedono delle risposte specifiche quindi il mio consiglio è sempre prima di tutto guardatevi dentro e cercate di capire anche banalmente perché volete essere più organizzati non voglio cominciare un tetto sul capitalismo il consumismo però la produttività è un po un frutto il concetto stesso di produttività è un po in sé per sé un concetto che nasce da lì ok nel mio caso per esempio io tutti i sistemi di organizzazione che metto in atto hanno l'obiettivo di liberarmi tempo per fare quello che mi piace e da dedicare alle cose che per me sono più importanti ok però per altri potrebbero essere altri motivi davvero quindi conoscersi conoscersi vuole anche dire imparare a riconoscere i propri ritmi e le proprie preferenze c'è chi ama scrivere su carta chi ama usare il digitale chi ama ascoltare chi ama leggere sono competenze specificità completamente diverse ed è inutile andare a ricercare uno strumento di organizzazione una tecnica che usi tool e tecniche che sono avverse a quella che la nostra abitudine ma soprattutto conoscersi vuol dire capire in che direzione stiamo andando cioè davvero qual è la motivazione l'obiettivo finale seconda cosa ricordarsi che l'organizzazione è un processo che guardo la nome tutelare l'organizzazione è un processo quindi come tale non è rigido cambiare un'ottima cosa non è detto che solo perché avete attivato un metodo di organizzazione uno strumento questo debba rimanere con voi per il resto della vostra vita non siamo uguali a noi stessi da una settimana all'altra a figurarsi se dobbiamo usare lo stesso sistema dirà una cosa impopolare io credo moltissimo nell'organizzazione dei tempi e degli spazi per difenderci dal mondo esterno io non credo molto nella generosità nel senso che non credo che dovremmo promuovere la generosità tra noi e la gentilezza io credo che prima di tutto noi dovremmo dedicare più tempo a prenderci cura di noi stessi perché se non ci prendiamo cura di noi stessi non c'è spazio per gli altri non c'è energia per gli altri non abbiamo niente da dare questo lo dico spesso provocatoriamente perché invece quello che ci sentiamo dire quotidianamente che dobbiamo essere più gentili più generosi ascoltare di più gli altri essere più a disposizione degli altri e quant'altro è tutto giustissimo però forse perché io parto dall'esperienza di aver avuto un burnout quindi parto sempre ricordandomi come ci si sente quando non c'è più niente da dare per nessuno ricordiamoci che prima bisogna avere come dicono gli americani un pozzo pieno se no non si dà l'acqua a niente non si dà l'acqua alle piante non si dà da bere agli altri ok lavorate con quello che avete non cercate di inventarvi spazi e sistemi dove questi non ci sono ci sono dei vincoli bisogna lavorare con quelli e è più importante la revisione della pianificazione qualsiasi strumento di organizzazione implementiate di solito si parla di organizzazione del tempo ma non solo per assurdo per quanto sia importante mettere giù un sistema che funzioni per voi con gli strumenti giusti e quant'altro è più importante il tempo che dedicherete a fare dei momenti di bilancio una volta alla settimana una volta al mese una volta ogni tre mesi una volta all'anno sono di solito i tempi canonici questo serve per fare delle verifiche appunto che le cose funzionino e anche intercettare le necessità di cambi di direzione questi sono gli assunti con cui io di solito opero a questo punto viene il ask me anything avete un dubbio qualcosa che non vi funziona nell'organizzazione del tempo e dello spazio lavorativo e o personale di vita o di qualsiasi altra cosa che volete sottopormi grazie di avermelo chiesto alessandra allora sì per me il te la formazione è parte del tempo lavorativo io non leggo o studio quando ritengo di essere in vacanza tanto per dire cioè se io vado in vacanza per stare in vacanza io non leggo dei libri di saggistica no qualcuno lo sa io leggo soprattutto romanzi rosa in questo periodo prevaribilmente regi regency come si dice storici se vi servono consigli sono sempre disponibile però il tema è questo per me da freelance il tempo della formazione quindi della lettura scopo formazione della frequentazione di corsi di formazione è un tempo incluso nel tempo lavorativo come il tempo per fare la contabilità questo significa che per esempio adesso che lavoro in esclusiva per un'agenzia per la parte di strategist la formazione io la faccio rientrare nelle ore che quantifico per l'agenzia ok io di solito mi do degli obiettivi a inizio anno di che cosa voglio imparare nell'arco di quell'anno e di che cosa voglio leggere e quando faccio gli obiettivi lavorativi che li faccio trimestrali metto giù che cosa voglio leggere o studiare in quel trimestre ci sono dei trimestri che non faccio niente perché non c'è spazio ci sono altri invece che faccio adesso sto facendo la via dell'artista di giulia cameron che personalmente ritengo sopravvalutato come imposti i tuoi obiettivi annuali io faccio obiettivi personali dal 2013 il che significa che una volta all'anno io faccio un momento di verifica sulla mia direzione generale per farla molto breve nasce in risposta alla domanda sono sul mio letto di morte a 80 anni come voglio essere cosa voglio vedere intorno a me e cosa voglio avere lasciato quello governa la direzione e di volta in volta ogni anno carono gli obiettivi personali gli obiettivi professionali li faccio subito dopo i personali quindi quello che guida sono comunque gli obiettivi personali e gli obiettivi professionali vivono di conseguenza adesso che sono in agenzia gli obiettivi professionali sono molto meno di fatturato ma quando ero freelance pura gli obiettivi erano prima di tutto di fatturato e poi alcuni che derivavano dal come volevo fare quel fatturato quindi per esempio se quel fatturato doveva essere per composto per il 15 per cento da corsi di formazione poi nascevano gli obiettivi secondari che avevano a che fare trovare un'idea per un corso svilupparla eccetera eccetera nel dettaglio ho cominciato a usare un quaderno di una motivatrice americana che si chiama Amber McHugh che fa una roba ogni anno che si chiama planathon che mi ha fatto scoprire la marana francesca marano per chi non conosce da francesca marano che non è presente che si chiama fresh start e io ho preso quel quadernino lì alcuni anni fa e molto semplificato disamericanizzato reso insomma qualcosa di più utile secondo me a le nostre esigenze e quindi ho un quadernino di esercizi che rifaccio a seguito degli obiettivi personali ogni anno e che già diviso in quarti poi quindi io già ho più o meno le cose insomma la direttrice di qual è la differenza nei quattro trimestri faccio anche un'agenda che vedi che autoproduco e che vedo come origine di tutto qua sì sul tema dell'ingegnerizzazione dei prodotti degli strumenti di organizzazione io per esempio sono molto più laica per esempio nonostante io abbia tutto questo format lo faccio su dei quaderni dei bullet point ogni anno mi trascrivo le cose ecco anch'io sulla stessa scia questo tuo metodo che parte da una parte che viene semplificato dove lo scopriamo? Allora e beh potete guardare Amber McHugh perché il fresh start alla fine alla base è quello io non siccome ho smesso di commercializzare questo tipo di servizi e di cose non ho più niente online delle cose che facevo tipo la mia agenda così via quindi la gente deve venirmela a chiedere io gli passo sotto banco un file pdf mi fa un ordine io vado dal tipografo c'è uno scambio di fatture c'è uno scambio di soldi no a parte gli scherzi poi questo si trasforma in un vale la pena fare editoria o prodotti motivazionali no economicamente non vale assolutamente la pena è un modello non viabile per cui io a un certo punto ho deciso che non aveva assolutamente senso svilupparlo sempre perché mi contraddico do questi consigli liberamente al freelance camp e se qualcuno mi chiede gli mando le fotocopie no non è vero c'è gente che ha usato l'agenda anzi c'è gente che l'ha anche rielaborata ammonia scusate effettivamente ci sono i casi studio ma cosa intendi per obiettivi personali fammi degli esempi ah sì sì allora può esserci qualsiasi cosa per esempio io ho un obiettivo continuativo di cambio di vita in un'ottica di salute cioè di benessere che ce l'ho da tipo tre anni che va avanti perché ogni piccolo tassello conta però ne parlavamo prima con la sacco che per esempio invece l'anno scorso uno dei miei obiettivi era trovare una pièce teatrale statunitense tradurla e metterla in scena ho anche gente che era tra il pubblico scusate cioè ho infiltrati ovunque praticamente no però possono essere cose circoscritte io cerco sempre di utilizzare comunque obiettivi che ho modo di quantificare quindi anche l'obiettivo di salute è in realtà espresso in chili cose che riesco a fare fisicamente che per me sono più importanti in termini tipo di chilometri quante scale senza avere il fiatone queste cose qua quindi ci sono sempre gli obiettivi misurabili sono proprio un progetto a sé stante quest'anno per la mia gioia quasi tutti i miei obiettivi si risferiscono alla sistemazione di beghe familiari quindi ho per esempio completare la successione di mia zia sistemare il sistema di caregiving di un parente di un altro una cosa a cui mi hai fatto pensare parlando dell'organizzazione che in realtà è adattabile al momento in cui siamo in quel momento lino della nostra vita della nostra carriera e per me che ho fatto il passaggio da dipendente a freelance da relativamente poco tempo la cosa più difficile da imparare è stata proprio questo cioè che in realtà è tutto cambia sempre perché ho passato tre quarti della mia vita a credere che si fa così tu sei così devi andare lì e farai solo quello finché non ci crepi sopra fondamentalmente e invece ho fatto una grandissima fatica perché mi sentivo costantemente sbagliata perché cambiavo e dicevo cavolo no ma non posso cambiare perché devo fare così allora sto sbagliando allora non va bene e invece è stato proprio il lavoro più grosso per me è stato dirla accettarla e poi dopo muoverci in mezzo sì infatti secondo me ci sono allora c'è un grande malinteso che si ha sull'organizzazione e sulle persone organizzate tipo io quando parlo con le persone che vedono come pianifico le mie cose ovviamente la prima cosa che ti dicono è ti guardano e si chiedono perché non prendi degli psicofarmaci e ti dicono che non sei normale che è un po' c'è un tocco di OCD un po' di paranoia e così via c'è questa idea che chi organizza e pianifica molto sia molto molto legato poi a questi piani e si aspetti che tutto vada in quel modo in realtà si pianifica molto perché sia perfettamente consapevoli che niente andrà in quel modo cioè si pianifica molto per essere nelle condizioni di gestire l'imprevisto e poi bisogna essere molto disponibili a improvvisare sempre e questo è paradossalmente più difficile non per chi è più organizzato ma per chi è più disorganizzato perché le persone che si approcciano, nella mia esperienza perlomeno, le persone che si approcciano per la prima volta all'organizzazione tendono ad avere bisogno di ritmi, routine, spazi, schemi e quindi a vivere come appunto una tragedia il dover rinunciare a un piano che hai fatto dover cambiare quello che ti ci ha voluto così tanto tempo a costruire e in realtà l'improvvisazione come anche nella musica i veri bravi improvvisatori sono gente che ha una base tecnica pazzesca da un punto di vista musicale e la stessa cosa vale con l'organizzazione cioè secondo me capisci di essere arrivato a un buon livello di gestione organizzativa del tuo tempo e della tua vita quando improvvisi e dopo tre mesi mandi tutto a monte perché capisci che non funziona perché la capacità, l'avere assorbito la capacità è proprio capire questo non è quello che va bene, non funziona, faccio altro e non è una sconfitta nella maniera più assoluta è anzi la capacità proprio di intercettare esigenze diverse, mutate condizioni e rispondere con la risposta più adeguata in quel momento a quell'esigenza, a quel problema quindi sì, secondo me è normale che dovendo per la prima volta essere tu che ti dai un'organizzazione non subendo un'organizzazione perché di solito quando siamo dipendenti subiamo gli schemi organizzativi dell'azienda, le richieste ci viene richiesto di usare certi strumenti, certi tempi eccetera è normale che la prima volta tu sia così attaccata al sistema che ti sei trovato però pian piano invece secondo me si riesce è importante sentirsi dire che si può, cioè che è la soluzione giusta che non è una sconfitta, cioè non è che stai sbagliando perché anche questa idea che molti di noi comprano un'agenda, la usano tre mesi e poi la buttano via e lo vivano e di solito, cioè io quando parlo con le persone anche di agende appunto perché tendo ad avere conversazioni sulle agende con le persone anche con gli estranei la gente ti dice proprio io ho cominciato, ci ho provato, non mi sono trovato bene e allora ho lasciato perdere perché il senso è evidentemente non sono portato per questa cosa non sono portato per l'organizzazione che ci può stare, c'è nessuno di noi secondo me naturalmente forse no, qualcuno di noi è un po' più portato però diciamo che non è che nasciamo con la lista delle cose da fare da una parte e degli orari dall'altra L'educare è una forma mentale, l'organizzazione, cioè uno impara a strutturare delle cose che però nell'ascolto e nella contemporaneità in realtà possono variare ma se uno ha imparato il sistema dell'organizzazione in realtà può più o meno velocemente Sì, sì e non lo so, non sono sicura al 100% che sia così per tutti cioè io mi rendo conto di avere a che fare anche con persone ad alta performance per certi versi che poi quando vai a scavare non ce l'hanno quel sistema perché hanno, e non perché non ci abbiano provato ma perché non ci riescono, non sono fatti così e si possono trovare dei meccanismi per bypassare il sistema sicuramente è uno strumento cioè sicuramente è qualcosa dentro cui tu poi devi infilare il lavoro, il tempo e tutto quanto non è appunto fine a se stessa non è che magicamente nel momento in cui ti organizzi quello da quel punto di vista lì sì cioè è un sistema che tu applichi io sono un po' più possibilista sul fatto che effettivamente tutti abbiano questa capacità che è anche il motivo per cui è così importante secondo me dire che non è lo strumento cioè io per esempio ho passato un periodo che dicevo ah no, un certo metodo di fare le liste e così via no, evitalo non usarlo a chiunque cercavo di dirlo e poi mi sono resa conto che non va bene perché effettivamente ciascuno di noi ha bisogno di un kit di volta in volta di strumenti e di situazioni diverse e per quanto io possa pensare che una cosa è altamente dispersiva e ansiogena a lungo andare invece ci sono persone che in quel modo lì fioriscono riescono a valorizzare il loro tempo e le loro attività grazie a tutti Grazie a tutti